Avete i legnami infissi, Sport1 da 37 anni al servizio dello sport e Verde Sativa presentano il circuito calcistico d'Elite. La cosa importante oggi erano i tre punti, abbiamo portato a casa anche una bella prestazione di gruppo, fanno sempre morale queste prestazioni. No, siamo entrati bene, abbiamo sbagliato qualcosa all'inizio, però poi siamo sbloccati e è andata bene anche al secondo tempo. No, sicuramente puntiamo ai playoff, siamo in sesta posizione, cerchiamo di arrivare in quinta appunto per i playoff e adesso andiamo avanti con la prossima partita. Ma sicuramente la diriva la squadra, venivamo da una serie di brutte partite, tranne la Coppa abbiamo pregiato la prima, però quindi sicuramente la squadra che se lo merita e ho sbagliato molte occasioni, però ho segnalato per loro e cercherò di segnare ancora.